Grazie a tutti. Buongiorno, grazie e salve a tutti. Buongiorno alle autorità, buongiorno al prefetto sempre presente, grazie perché gli impegni sono tantissimi e lo so. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Foggia, il sindaco, l'assessore all'istruzione Claudia Lioia, sono alle prese col bilancio per cui il tema è caldo e non potevano lasciare. La dottoressa Marida Episcopo, il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, fuori sede per impegni istituzionali. L'impegno nostro è vicino all'associazione Onlus Mario Frasca, un nostro ex alunno, ormai la storia la conosciamo tutti, però l'impegno e l'amicizia che ormai ci lega sia ai genitori di Mario, sia al fratello Vincenzo che ormai è un nostro veramente amico, abbiamo stretto diverse collaborazioni, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e ad accompagnarci nel nostro percorso. I ragazzi quest'anno hanno partecipato in maniera ancora più propositiva, ancora più coscienziosa e i lavori sono stati molto belli e ancora una volta grazie al supporto che ci dà sia l'associazione sia i nostri docenti che aiutano e che supportano queste iniziative. Ringrazio il nostro testimonial di quest'anno che è il professor Sergio Venturino che è stato docente di Mario Frasca, un nostro, dico nostro perché è un amico mio da tanti anni e poi un docente caro all'istituto che è stata veramente una colonna portante di questo istituto e di questa istituzione ormai. Vi ringrazio, vi lascio alla premiazione dei lavori dei ragazzi e grazie di nuovo. Grazie ancora alla nostra dirigente scolastica Giulia Rosa Trimboli.